Noi ci siamo accorti di moltissime persone che fanno richiesta di case in affitto o in vendita. Questo succede già da un paio d'anni, per cui è vero che la controtendenza allo spopolamento non la possiamo misurare in un range così stretto, però è vero che le richieste ci sono. Più che una percezione è ormai un fenomeno quello del ritorno alla montagna. In questo caso siamo nel cuore dell'Alpago a Tambre, dove Sara Bona, esperta nell'ambito dell'europrogettazione e formazione, è il nuovo sindaco. Battuto il temibile quorum, Bona passa in rassegna i motivi che portano nella conca, tra lago e consiglio, nuovi residenti. Perché in montagna si vive bene, si può lavorare da remoto, perché comunque la fibra sta arrivando un po' dappertutto, per cui questo ci agevola. E la qualità della vita però è eccezionale, soprattutto l'Alpago, per chi ha la fortuna di conoscerlo, sa bene di che cosa parlo. Parlo di un ambiente dove c'è la foresta, la seconda più grande d'Italia, il lago di Santa Croce, una conca di monti delle prealpi, straordinari anche per la pratica dello sport. Attrarre abitanti quindi in un mondo che cambia e accorcia le distanze, questo uno degli obiettivi a medio raggio. Per cui veramente pensare magari di venire a lavorare o vivere a tambre, lavorando in smart working e poi aprire la porta di casa e uscire e liberare mente e spirito in questo ambiente naturale fantastico, penso che possa essere un potenziale veramente da valorizzare. Insomma, le sfide non mancano per i nuovi amministratori della montagna belunese, fiducia nonostante tutto resta la parola d'ordine. Per il nuovo ringraziamento e poi gli dico guardiamo con fiducia, veramente con fiducia alla rinascita della montagna perché le potenzialità ci sono.